Il presidente americano e la First Lady hanno lasciato la Casa Bianca per passare le vacanze nella residenza di Mar-a-Lago in Florida, ma Trump ha tutta l'intenzione di lasciare il segno sul suo ultimo Natale presidenziale. Mercoledì ha posto il veto su una legge che stanzia 740 miliardi di dollari per il Pentagono, approvata a larga maggioranza bipartisan dal Congresso, come consuetudine da 60 anni ha fatto notare piccata la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Il presidente obietta che la legge è incostituzionale, va contro la decisione del governo di ritirare le truppe americane dall'Europa e dall'Afghanistan, ma ciò che Trump voleva era una norma per porre fine all'immunità delle piattaforme tecnologiche sui contenuti pubblicati. La prossima settimana il Congresso potrà decidere di superare il veto presidenziale e i repubblicani si troveranno davanti alla scelta di dover votare contro il presidente o contro una legge che avevano sostenuto. Intanto Trump vuole mettere il veto anche sul pacchetto di aiuti per l'economia da 900 miliardi, varato dal Congresso dopo mesi di faticose trattative, ma che lui considera del tutto insufficiente.